Ecco, siamo arrivati praticamente all'Alpebolla, da qua manca pochissimo, ci si è aperto davanti un prato stupendo dove una volta o l'altra avremo a fare un picnic, c'è anche una panchina, questo è il cartello che indica le distanze. Ecco, all'Alpebolla abbiamo solo 5 minuti, mentre per arrivare a Ebreo abbiamo ancora quasi 2 ore e questo è il confine fra l'Italia e la Svizzera, ora lo lasciamo definitivamente per addentrarci più decisamente in territorio svizzero, questo è l'ultimo cipo confinario che incontreremo durante questa passeggiata. Angelo, va a fare un giretto in Italia, dai, va a fare un giretto in Italia. Chiedi permesso. Attento a non prendere la scossa. Ecco, chiudi la porta. Ecco, adesso fai 4 salti in padella. Devi saltare dicendo sono in Italia. Come si sta in Italia, Angelo? Ma com'è brutto? Ma cosa dici? Dai, torna in Svizzera, va là. Ho la mia casa qui. C'è la tua casetta? Sì. Dai, fa' vedere. Bene, allora domenica prossima veniamo a fare una gita qua. Dai, torna in Svizzera, va là. Sei andato di là senza passaporto, vergognati. Se ti trovano le guardie svizzere ti portano in Vaticano. Ok, dai, andiamo all'alpebola. Saluta! Ciao! 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 Ciao!